Ragazzi è troppo tardi per farvi vedere la partita dall'inizio, però io voglio mostrare quest'uomo Ah, dall'inizio partita si è millato con un Hydron Crab, si è millato 30-40 carte E poi ha fatto un Sun Titan e poi ha deciso di fare un Traumatize su se stesso con le sue 700 carte nel mazzo Di millarsi 330 carte e in queste carte c'era un No to the Bone, un rosicchiare fino all'osso Che gli ha fatto guadagnare 170 punti vita, qualcosa del genere Quindi quando qualcuno vi dice che il modder non è un formato Mario, mandatelo a cagare Beh, tra l'altro mi sta facendo laggare così tanto questo cazzo di mazzo Ma così tanto? Inverosimile Quando ha castato Traumatize, io sono rimasto quasi bloccato con il PC Grazie mille wall of shards ... 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 Ma che cazzo giova? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non riesco nemmeno a capire quanta roba nel cesso. Quindi... Non riesco a capire quanta roba nel cesso. 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 Non avevi una pianura in mano. Non era una pianura in mano. Vabbè... Avevo una pianura in mano. Vabbè... Adesso pescherai. Non riesco a capire... Non riesco a capire quanta roba nel cesso. 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 Grazie. Grazie. Il gioco sta impazzendo, si sta spostando le cose perché si è cagato il cazzo pure lui di la gara. Minchia, su 317 carte ti piace quella che è in C? Grazie. No ma fammelo un po' più piccola la cazzo della finestra. No ma fammelo un po' più piccola. No ma fammelo un po' più piccola. No ma fammelo un po' più piccolo. No ma fammelo un po' più piccolo. Grazie ok. purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di fargli avrei dovuto ticcare Liliana perdere il colla che no non avevamo la possibilità di farlo abbiamo perso tutte queste va bene due danni importanti ok ci vediamo dopo ciao ciao si si ciao 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 insopportabile ciao ciao la puttana, mannaggia siamo morti? che gioca, va la cut non riesco a capirlo dentro questo cazzo di cimitero di 366 carte vedi? posso fare una minchia ah no, c'è field of the dead quanti field of the dead ci sono? potevamo uscirne con cling? potevamo uscirne con cling? sono uno stronzo, vabbè cling su field field l'avrebbe, l'avrebbe fatto morire senza niente and da ancora ora s'pergilla s'pergi atenção s'pergilla alla sua sono strettamente a ris потому si s'pergilla s'pergilla sotto l'apessore non riesco a capire cosa sia successo al nostro avversario si non riesco a capire cosa sia successo al nostro avversario credo che ci siano 72 innescate quant'era? 68 più quelle che sono andate nel cesso ok ok il nostro unico pulse è andato esiliato addio addio amici addio stiamo per essere attaccati da 4000 zombie stiamo per fare un cosplay di resident evil secondo me sta laggando anche lui non si spiega altrimenti come mai stia cercando di mettere in pira tutte le abilità singolarmente invece di fargliele mettere in automatico al gioco e dai che trano non c'è 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 E' andata, ho fatto esplodere la webcam. Porca puttana.